Rino Gaetano, domenica musica con Rino Gaetano. Rino Gaetano, domenica musica con Rino Gaetano. Rino Gaetano, domenica musica con Rino Gaetano, domenica musica con Rino Gaetano. Rino Gaetano, domenica musica con 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 Rino Gaetano, dom questa cosa qui. Hai fatto dei concerti anche in Messico ti sei esibito, hai cantato? No, ho fatto delle televisioni in Messico, concerti purtroppo ancora no, comunque partiamo noi tutti quanti. Rino Gaetano sconvolge sempre con questi strani costumi, o la bombetta, mi ricordo quando sei presentato a Sanremo la prima volta, come eri vestito? Ero con una bombetta come questa, che adesso l'ho data a loro comunque. Sei migliorato? Sì, ebbè, anche perché è più morbido, quello è rigido. E poi avevi un sacco di medaglie? E avevo anche le medaglie, perché ero decoratissimo proprio, poi mi hanno dato i premi che vedo. Ma tu sei allegro così come appari nelle tue canzoni, oppure dentro di te si cela un animo triste? Tu come mi vedi? Ma a me, a voi che cosa ne pensate in Sanremo? È allegro o no a lui? Allora sono allegro. Questa non è una risposta, non è che sei come quei clown che quando poi si tolgono il trucco... Ebbene sì, ebbene sì, sotto c'è quest'animo sensibile. Io lo immaginavo, lo immaginavo. Lui è un triste, cioè sei un malinconico tu. Beh, insomma, adesso mi piace un po'. No, no, perché la saudaci, ragazzi, la saudaci brasiliana. Grazie.